marino defendi allora l'allenatore rosso verde è chiaro che aveva un diavolo per capello e recriminava su un paio di occasioni in cui tu sei stato ampiamente sfortunato oltre a quella di varone tu che ne dici dico che normale rammarico c'è perché per la partita che abbiamo disputato sicuramente meritavamo qualcosa in più poi va beh calcio questo volte si vince a volte si perde un peccato perché comunque a mio avviso abbiamo creato molto abbiamo creato molto però non siamo riusciti a buttarla dentro loro con mezza palla ci hanno fatto sto gol e bravi loro al nonno del secondo tempo su di te marcona ha fatto un autentico miracolo il punto il discorso che dicevo prima magari su quel punto di vista lì siamo stati un po sfortunati perché ripeto a mio avviso soprattutto il primo tempo abbiamo abbiamo disputato un'ottima partita fino fino al cambio modulo dopo magari col cambio modulo siamo magari abbiamo un po tentennato abbiamo un po abbassato i ritmi però tutto sommato sono contento dalla prestazione anche se il risultato non è quello sperato marino tu sei uno dei pochi della vecchia guardia hai vissuto questo primo mese e mezzo con molti rinnovamenti come sta vivendo questo cambiamento e se ritieni al momento questa squadra in grado di salvarsi in serie b penso che la squadra la squadra che si è vista stasera è una squadra che che può giocarsi tranquillamente il campionato di serie b è normale che era la prima uscita sicuramente ci abbiamo molto abbiamo molto da migliorare abbiamo anche minuti comunque da inserire nelle gambe però ripeto sotto questo punto di vista sono molto fiducioso anche perché per quello che si è visto stasera sicuramente si meritava qualcosa in più ecco oltre al gol che cosa non è riuscito ovviamente la ternana per scardinare insomma la difesa del trapane abbiamo visto comunque che adottate un fraseggio molto corto quindi anche con le due mezzali de varone cercate sempre l'inserimento forse è mancato più il gioco sulle fasce oppure il lavoro degli attaccanti penso penso di no perché comunque lavoro sulle sulle fasce a mio avviso è stato è stato un buon lavoro anche perché sia sinistra con favalli a destra all'inizio con sernicola conferretti dopo comunque sono arrivati molti grossi è normale che quando dopo ti trovi una squadra che si schiera tutte davanti all'area di porta diventa difficile per chiunque ripeto le occasioni le abbiamo avute davanti c'era il muro è un peccato senti marino nelle amichevoli precedenti già avevamo notato che la ternana soffriva queste imbucate centrali con il lanci lunghi che scavalcavano la ragnatela di centrocampo è un difetto oppure questa sera un infortunio questo gol non penso sia un difetto nel senso noi cerchiamo di lavorare in settimana anche per curare questi particolari col gioco che vuole il mister con questa pressione alta magari qualcosa dobbiamo stare più attenti cercare di concedere il meno possibile ecco che si visto anche stasera magari con quella mezza palla loro sono arrivati davanti alla porta però credo che il lavoro che stiamo facendo è un ottimo lavoro e ripeto siamo solo all'inizio dispiace perché comunque è una partita di competaglia che ti permetteva di andare a giocare a torino ed è sempre bello comunque giocare una partita contro squadre comunque di livello molto superiore al nostro è un peccato però ripeto io sono convinto in quello che stiamo facendo anche perché per quello che ho visto io stasera sul piano del gioco siamo a un buon punto infatti marino sempre pochi tocchi sempre alti in pressing e sempre in raddoppio e allora ti chiedo è calcio d'agosto e fa molto caldo ma quanta birra state mettendo sulle gambe a livello di preparazione atletica e se questo lavoro sta pesando magari anche poi a livello di prestazioni dal punto di vista fisico vabbè ripeto siamo all'inizio poi a mio avviso è stata la prima partita serie che abbiamo fatto dall'inizio penso che ce la siamo giocata ce la siamo giocata bene anche perché dopo non so magari mi posso sbagliare però numeri alla mano non penso che loro abbia fatto qualcosa in più di noi ecco ripeto ci è mancato magari quel guizio quel qualcosa in più sotto porta che a mio avviso è solo da da migliorare in allenamento e basta sappiamo che non è il tuo mestiere però tu sei uno dei più esperti di questo spogliatoio secondo te dal mercato che cosa serve ancora guarda sinceramente su queste cose non penso neanche non ci penso neanche un lavoro che ci sono gli addetti per fare questo tipo di lavoro noi giocatori dobbiamo pensare solo ad allenarci bene e seguire cercare di capire quello che vuole il minister da noi invece un giudizio sul pubblico no il pubblico stasera secondo me vanno solo ringraziati vanno solo ringraziati anche perché l'atmosfera è stata bella dall'inizio soprattutto secondo me per i molti ragazzi che comunque hanno fatto l'esordio e secondo me io parlo per loro secondo me è stata comunque una bella emozione vedere questi quattro forse se non sbaglio 4 5 mila persone quante e questo sicuramente ti dà quel qualcosa in più per cercare di nei momenti magari di difficoltà di tirare fuori di tirare fuori tutto anche l'esordio perché una fascia da capitano non era mai successo no sono sono felice sono felice di questa diciamo riconoscenza ecco cercherò di di dare il massimo come ho sempre fatto dopo per me è un vanto è un vanto in più è qualcosa in più che mi permette di di arrivare ancora più sereno alla partita di dare sempre massimo soprattutto per i compagni e per la gente giustamente che viene a vedere le partite grazie mille grazie grazie